E ragazzi, come va? Io sono Feri, Niki E sono Stef, che si gioca a Fortnite Benvenuti in un nuovissimo episodio speciale di Fortnite Allora, gli sviluppatori del gioco ci hanno dato un accesso esclusivo ai match privati Quindi quest'oggi cosa andremo a fare? Andremo a giocare insieme ai nostri iscritti, quindi insieme ai consolini dei match di Fortnite È una figata pazzesca, in questo momento si sta riempiendo la partita Siamo già in 74, tra un minuto partirà il match E semplicemente giocheremo tra di noi È un evento speciale, se andrà bene ovviamente continueremo a farne di altri E siamo casatissimi Speriamo, io sono felicissima Cosa potevamo volere di più del poter fare i game con i nostri iscritti È una roba pazzesca, siamo strafelici, siamo super carichi Fare, siamo in 80, mi stanno arrivando richieste di amicizia tutto il tempo In una maniera incredibile Mi ho tipo 400 solo in questo momento, quindi è bellissimo È una roba assurda, vediamo se riusciamo addirittura ad arrivare a 100 Ma anche se non ci arriviamo siamo davvero vicinissimi E fra poco si parte Ci siamo Fer Ci siamo Ci siamo Ok Allora, inizia a correre in giro Allora mi stanno tutti seguendo la scena di persone dietro Me ne segno tanto in questo momento dentro Fer Andrei in un posto abbastanza tranquillo Tipo qua dove c'è la sedia Però c'è da dire che se vedono i nostri video sanno anche dove noi scendiamo più spesso C'è da dire Beh ma noi di solito andiamo poco più giù Quindi teoricamente dovremmo essere tranquilli Ah che figata Fer Sono prontissimo Che poi sono curioso di leggere i nomi delle persone che ci sono in partita Perché di sicuro ci saranno di fantastici Dopodiché il prossimo video che faremo sempre con gli iscritti sarà che giochiamo in team Io e Fer Con completamento Quindi troveremo due iscritti a caso Più tutti gli iscritti che abbiamo contro Quindi sarà un delirio ancora più delirio Speriamo di trovare anche delle persone che hanno il microfono Perché così Sarà ancora più divertente Però sarà una figata anche quella partita Allora Sono abbastanza vicino alla zona Ci stiamo avvicinando A me non sembra di vedere nessuno Tu vedi qualcuno Fer No ho visto che molti si sono buttati nella parte iniziale della partita Ok Infatti vedo già gente che si sta ammazzando in questo momento Ok Siamo un'ottantina di player Dai quindi una partita normalissima Quasi una partita normale Ho visto delle persone scendere a condotti confusi Ok Quindi abbiamo gente vicina Ma nella nostra città Come pensavo Non c'è nessuno Quindi partiamo abbastanza safe Allora io scendo come sempre nella sedia Dammi un po' di fortuna Vabbè Quello che spara a tre colpi Però almeno ho trovato un bello shield Io al momento ho trovato solo dei proiettili Quindi non è che mi serve Beh Fer Ok È il modo migliore di iniziare Come hai trovato? Eh fucile normale Ok Oh ma ho fatto spaventare Ho detto ma mi è arrivato qualcuno in faccia all'improvviso E mica compaiono così da dietro Eh perché mi viene l'ansia Capito? So che saremmo seguiti Quindi ho paura di guardarmi ogni Non sanno dove siamo Fer E questo è il nostro vantaggio Sì ovvio Siamo nascosti Nessuno sa dove siamo Allora vedo che un po' stanno morendo Quindi sicuramente un pochettino sono scesi Nelle città più grandi Certo Ovviamente Che è una cosa classica Uh qua c'è una chest Vediamo Che qui mi sembra di aver sentito qualcosa Se non sono impazzito Ma porca miseria Ma che schifo è questa roba Dai manco la prendo questa arma La odio Dai un po' di fortuna per favore Allora chest Questo bianco che mi fa felice Vabbè tietelo Vabbè mi prendo anche la pistola sinceramente Perché no Al momento non l'abbiamo abbastanza Beh certo Sono messa malissimo Quindi ancora quella me la prendo Revolver qui Ok Ok Airdrop il primo Lo vedo anche 395 e 210 Non è troppo distante Non so se sono due Per ora ne ho visto soltanto uno Qua suondo Ditemi che c'è un'altra chest Munizioni per la pistola Non me faccio nulla Qui nel pontile non c'è la chest Qui c'è una chest Vieni 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 Allora facciamo così Dai non rompere Opla Per favore Almeno un'arma decente in tutto il game Una Non ne chiediamo tante Non ce la facciamo Va bene Non è giornata Non è giornata Io mi prendo questo fucile a pompa Dato che ci sta Me lo sento di usare questo oggi Allora 49 player Sta finendo di chiudere la prima zona Ok Vediamo verso dove dobbiamo andare Ci rimuoviamo Sì 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 Airdrop Uh Io lo punterei Io lo punterei Però lo vedi Tu che dici Eh ma io non lo vedo Tu lo vedi No Ho preso Ah hai preso le gomme Ok Non le avevo mica Eccolo Ok Ah sì Lo vedi Ci andiamo Di fronte a noi Sì Andiamo Dai dai Lì incontriamo per forza qualcuno Quindi è il momento di fightare Anche perché comunque 49 ancora vivi È una roba incredibile Ma io te l'ho detto Stanno secondo me giocando Tutti abbastanza Al sicuro Per cercare di incontrarci Tranne Gonx che è già morto Perché ho letto in chat Che c'era anche lui E l'hanno ammazzato Chiunque l'abbia ammazzato Si merita un premio Si riuscite a leggere il nome di chi l'ha ucciso No perché era troppo veloce Cavola l'avremmo salutato in video Fede Porca miseria Se lo meritava Vabbè alla prossima Chi ammazza Gonx Penso se l'avessimo ammazzato noi Sarebbe stato bellissimo Sì Allora dov'è Allora vediamo un po' Dai RPG Beh 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 Non male Io mi prendo gli shield Sì infatti sto per dire Allora No non cadete Mi prego mi prego Ok Scendete qua Scendete qua Ma dimmi te Perché devo per forza cambiarli con un'arma che ho Perché ho l'inventario pieno Quindi Pam pam Dimmi te Se devo fare così Eh ha fatto un po' una scemenza secondo me Però me la farò andare bene Dai sto così Sto così Sto così Sto così Mi sono tolto le mie 16 normali Ho tenuto solo quello col mirino Ok Di solito non mi piace farlo A me piace Però il doppio pompa Con pure RPG mi ispira Quindi Facciamo così Facciamo così Adesso Fere Andiamo dentro la nuova zona Che inizia ad essere piccolina E vediamo se incontriamo finalmente qualcuno Ho sentito sparare in questa zona L'hai sentito il colpo? Eh no Sembrava di fucile da cechino Ok Credo che siamo vicini a dei player Ok Va bene Va bene Stai molto attenta Stai molto attenta Io non vedo nessuno Però sono sicuro di aver sentito Dove si saranno nascosti Io non l'ho sentito L'hai sentito solo tu Quindi devi Nord ovest dentro la casa Giusto? Vedo 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 Sì costruiscono Ok E uno o due? Eh non lo so Da qui non vedo Vedo solo che stanno costruendo All'interno della casa Probabilmente per prendere una ceste Però non vedo ancora Ok 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 Stiamo così Stiamo ancora ad aspettare Ecco ne vedo di sicuro uno Uno Ok Due Due Sono in due Vado? Vai Tolto 23 di shield A terra 57 23 Manca l'altro Dannazione Ah Uccisi tutti e due Uccisi? Ho ucciso Hortikons E beta 23 17 No povera beta L'hai nominata prima Ma poverina Il fucile a pompa blu Te lo lasciate Allora Devo dire che mi dispiace Consolini Però almeno vi ho salutato Ok Occhio che magari ci sono le trappole Si vendicano Probabile Che mentre dici Poverini Mentre magari esplodiamo Ti immagini Ti lasciano la trappola Pronto lì Vabbè dai È il gioco Allora Avevano anche parecchi materiali Quindi è stato comunque utile Sì abbastanza utile Con le munizioni Se l'ho messo bene Tu ne hai 70 Magari potete da qualcosina 70 e 13 per il fucile a pompa Forse ho visto sparare Ho il dubbio Ti do il volo delle munizioni Però rapidi Che sennò qua ci sparano Ok vai 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 Una cinquantina Così si è messa meglio Ma sono io a avere un effetto di colpi qua? Vedi? Però sta passando attraverso la montagna da me Credo di avere il gioco bugato No li ho visti anch'io Forse allora i custom match Essendo una cosa comunque Privata Possono essere un po' bugati Ok E bassissimo Qui davanti Qui davanti Ok una terra Giancio a terra Ok L'altro rimane Ok Eliminati Perfetto Allora Giancio Aspetta c'è ancora qualcuno Perché hanno diseguito l'albero Aiuto Mi colpiscono Mi colpiscono Da dove? Di fronte a noi Sì di fronte a noi Uh bello la rissa Rissa Missili Vai di cattiveria Ok Missili Ok Ok A terra l'apo Quanti sono ancora È morto anche l'altro Ma non so da chi Quindi c'è ancora qualcun altro Un'altra rissa Eh penso di sì Ho l'hai ammazzato tu quello dentro la casetta Allora io ucciso l'apo Tu chi hai ucciso Ne hai ucciso un altro Prendilo Oh mio dio C'è il cattling Oh mio dio Oh mio dio Grazie che bella Prendi 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 Grazie 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 Io mi sa che mi butto i medikit No dai devo buttarmi anche il pompa Basta Non posso stare con il doppio pompa Ok Ah mi dispiace un sacco uccidere i consolini Te lo dico Ma quanti C'è 4 kill Sai Lo so però mi dispiace Mi prendi in giro Io comunque Allora li sto nominando Per rispetto Giustamente li sto salutando Ah beh Saranno felici Guarda di essere morti Secondo me sì dai Sei un assassino di consolini Allora No vabbè c'è un altro gatling Che faccio? La zona La zona Eh ma lo prendo Eh ma te ne devi andare Muoviti No non lo prendo dai Sparano ancora in questa direzione Non è finita Comunque bastava giocare con i consolini Per trovare quella cavolo di mitraglietta Adesso ne abbiamo trovato due Oh di fronte a noi costruiscono qua Steph Eh Fede Sono ancora un po' distante Eh cavolo vieni qua Che cavolo ci fai lì più Porca miseria Lasciami in pace Sto lutando Sono una cossa Muoviti Non è a missili questo Sì che ce li ha Eccoli Opla Sette missili C'è la zona Corro 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 Non voglio prendere ogni zona Ma vieni io non posso entrare Dove li hai visti? Qui di fronte a me E se entro Beh sento il delirio infatti Ok si stanno sparando di brutto Sì eh sì eh sì Mi stanno guardando quattro persone in questo momento Anche a me tre Penso che siano quelli che abbiamo ucciso Sì Guardali guardali che lanciano granate da lì giù Ma tu li vedi però? Eh no Ok Ho visto che allora qualcuno sta costruendo qua i mattoni Mentre invece qui alla destra c'è qualcuno Ah ho visto qualcuno Granate Aspetta Uh Eh si stanno sparando molto quindi si muovono Boom colpito col cecchino L'ho mandato basso con i mattoni Però c'è un altro team che li spara E non so da dove Ah l'altro team è qui di fronte a noi nella casa Esatto è quello che ti ho detto Di fronte a noi Aspetta Ecco lì ecco lì Boom colpito anche uno dentro la casa Ok Ok ho eliminato uno Karok Ok Mi dispiace Karok scusa Mi sento tremendamente in corso Uh ho buttato uno giù Dentro la casa Uno è giù E l'altro è senza shield Ok Tiro una missilata Io devo fare attenzione Perché tu stai prendendo quelli della casa A me ne ho qua anche Alla sinistra Ok Perché c'era qualcuno che stava costruendo Ma te L'hai fatto esplodere Uno su due Danix05 Ha quasi fatto esplodere Stef ha quasi fatto esplodere Danix05 Allora Vengo da te Vengo da te Sì veloce però Corro 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 Spero non mi colpisca Ma sai che non ci sto capendo nulla Cioè Non so Uno è vivo Come uno è vivo Sì Prendo le munizioni Aspetta Sì uno è vivo Ok ce la fai? Sì è morto Non è più vivo Neraxian Ok Sto leggendo chi stiamo uccidendo Allora l'altro comunque era già morto Ok Non ci sto capendo L'ho detto che c'erano le trappole Porco miseria Vabbè Sto giocano bene giusto Hanno lasciato le trappole Nel caso che li uccidessi Allora prendo il chug chug Mi devi difendere Sì Quante kill hai? 5 Io a 3 Siamo a 8 kill Però aspetta Questo lo voglio Questo lo voglio Un bello scarlet Per un mille colpi Ma hai visto quanta roba avevano? Oh mamma mia Quanto è buttato E poi è il quinto gatling Che vedo Sì Allora aspetta che mi riprenda il pompa Ok Ricarico tutte le armi Ok pure io Ok Ci siamo? Sì Andiamo? Siamo persone pronte Sì Perché stanno sparando molto qui fuori Non so niente da dove Uno col gatling spara Ok Da dove però? Da dove? Dove sono? Nuova zona? Ok Ok Che ansia Aiuto Poi mi sento osservata Perché ho 4 persone che mi osservano Quindi mi sento un attimo in ansia Allora Ok Di fronte a noi ho visto gente che si lanciava col trampolino No Mi si era bloccato il personaggio ma dimmi te Ok ci sono Ok Ok Oh qua 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 Aspetta Lo vedi? Giù Ma povero Gaia Ciao Gaia Scusa Se Steph ti ha centrato Guarda che me l'hai detto tu dove era Eh ma dai Io ti ho detto c'entra l'interno E cosa dovevo fare? Povera Gaia Allora Allora Sento sparare Ok Ok Da dove? Ah vedo gente che spara Si stanno inseguendo uno col catling e l'altro che scappa E guarda lì Eh che bello comunque Ah Il minigano è strabello Sì Allora occhio eh Potrebbero essere ovunque Siamo ancora in otto Siamo solo in otto eh Siamo solo in otto Quindi stiamo rimanendo davvero davvero in pochi ormai Sì però stai attenta perché non sappiamo dove sono Comunque è stra divertente Dobbiamo farli più spesso sti game È la cosa più bella Qualcuno è vicino Ok dove? Lo vedo col cechino Aspetta È là vicino per modo di dire Ah eccolo eccolo L'hai visto? Sì 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 Ok gli ho tolto un bel po' di scilde di vita eh Quindi tienilo tu dopo Allora penso che si sia nascosto dietro l'albero Ok Ok Non so bisogna tenerlo d'occhio perché ho paura che sbuchi da un momento all'altro Beh sì anche perché ti potrebbe sniperare Quindi stai super mega attenta Allora siamo rimasti in sei Quindi c'è quello lì Non so se è in team infatti lui Dov'è? Lì che corre Vai Ferre è cattiva cattiva Eh vabbè dietro la pietra ci sono tante cose nascoste Ma dai tu sei cattivissimo ma ti sembra modo di missilarlo Occhio Eh però risponde Risponde E beh che deve fare? Nel senso che comunque sta la nostra posizione Quindi dobbiamo fare attenzione Lo vedi? Sì Ok È dentro la casa È dentro la casa No sta continuando a correre Sta dietro la roccia mi sa Ok Probabilmente ci vuole fare un assalto Quindi fai attenzione Siamo rimasti in cinque Quindi siamo due contro due più lui Ok Colpito 70 in testa Ha tipo 10 di vita Eh io non lo vedo da qui cavolo È dietro la roccia vero ancora? No è dietro la casetta Ok Adesso sta correndo verso sinistra Si è nascosto dietro una collina Lo sta sparando un altro team Ok Cerchiamo di andare all'altro team Vai 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 Corri Corro Lo senti? Sì Andiamo 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 Pa 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 Eccoli Pronta? Sì 3 2 1 Ok Uno giù L'altro è dietro la roccia lì Mi sta cercando di colpire Occhio Ricarico Quindi coprimi un attimino Ok Ok a terra Bravissima Siamo 2 contro 1 Liquid Fabius Ok C'è quello di prima Eh questo se la cava bene Comunque riesce a scappare un sacco Ma 2 contro 1 Comunque è tosta Guardalo come costruisce Yes Bravi 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 Eh bravi tutti i consolini Dai bravi tutti Ma hai fatto anche tu 6 kill? Sì 12 kill datali Disgraziata Dovevamo forse non essere così cattivi Beh vabbè ma è un gioco dove si spara Dobbiamo per forza Eh lo so lo so Dai però è stato divertente No è bellissimo È stra divertente Sì 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 Adesso facciamo quella con il team Così giochiamo con due consolini Speriamo che abbiamo il microfono Speriamo 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 tantissimo Ragazzi se li riesci a dire Scegliateci un like E' stata pronta A questo nostro video potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao